Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti Oggi è venerdì 11 agosto e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali Bene, cominciamo dal santo del giorno anche perché oggi dobbiamo festeggiarla tutti quanti Noi almeno della televisione perché oggi è Santa Chiara la patrona della televisione Il sole è sorto alle 6.07 e tramonterà alle 20.19 Per quanto riguarda il tempo la giornata di oggi si preannuncia con un cielo sereno poco nuvoloso Anche se la nuvolosità aumenterà dal tardo pomeriggio Quando saranno possibili anche brevi rovesci o isolati temporali più probabili sulla fascia costiera e collinare Anche se dalla grafica della protezione civile, vedete nel vostro televisore a casa È limitata alla zona del Conero, limitata alla zona centrale della regione Marche Però staremo a vedere, le temperature sono in diminuzione I venti moderati sud-occidentali con rafiche fino a burrasca nelle zone interne Anche ieri per esempio sembrava che dovesse arrivare chissà cosa E invece solo un po' di tuoni in lontananza e poi nulla di che Sabato invece, domani, domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso Con addensamenti cumuliformi, le precipitazioni saranno con rovescio temporali sparsi Al mattino, fenomeni di esaurimento il pomeriggio Le temperature sono in diminuzione I venti da settentrione di brezza tesa e moderati lungo la costa Il mare sarà quindi domani mosso Come si prospetta la domenica? Eccola qua, domenica di sole Con temperature che aumenteranno lievemente nei valori massimi I venti saranno di brezza tesa, di brezza leggera Il mare sarà poco mosso Allora avremo un tempo stabile o soleggiato Almeno per la prima parte della settimana prossima Con temperatura, temperatura in graduale rialzo Allora cominciamo a leggere i giornali Partiamo dal resto del Carlino di Fano Hai vissuto sempre al massimo Questo è il titolo Ricordo, il ricordo degli amici di Bigio Così era conosciuto Pierluigi Ricci Il bagnino che qualche giorno fa è morto al mare Mentre ha salvato in effetti tre persone Due ragazzini, uno di 13-14 anni Fratello e sorella e anche il papà Che si trovava appunto in acqua a Torrette di Fano Domani mattina alle 10 ci sono i funerali Alla chiesa Gran Madre di Dio nel quartiere di San Lazzaro C'è una toccante lettera per salutare Bigio il Generoso Generoso perché ha donato la sua vita Ha sacrificato la sua vita per salvare quella di tre persone Maggi dell'associazione Mare Dentro Che si occupa della gestione dei bagnini di salvamento Una moto d'acqua da donare ai bagnini fanesi Questa è la proposta E c'è anche un conto, le coordinate IBAN Per appunto cercare questi fondi Fondi sponsor, donazioni pubbliche, private, di cittadini Per l'acquisto di questa moto d'acqua di salvataggio In memoria dell'amico e collega Bigio E qui c'è l'IBAN Ok? Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino Andiamo nelle altre pagine Andiamo a vedere la pagina principale di Pesaro Con in primo piano i nomadi dei rifiuti La nuova raccolta porta a porta dell'inferenziata In quattro quartieri A Pesaro con il rischio di multe Ha rilanciato l'abitudine di andare a smaltire Nei cassonetti degli altri Un'abitudine per esempio che c'era anche a Fano Fino qualche tempo fa Poi una volta tolti tutti i cassonetti Dell'indifferenziata Il problema chiaramente è stato risolto La pioggia e il mare mosso invece Non spengono le candele Ieri giornata dedicata alla notte di San Lorenzo A Ponente l'alta marea ha creato qualche problema Migliaia però di pesaresi I vestiti di bianco hanno festeggiato la notte di San Lorenzo Cenando su 7 chilometri di spiaggia L'evento come diceva è stato turbato Un po' dal tempo dispettoso del pomeriggio Quando è caduta anche un po' di pioggia Poi questi sono i giorni del ROF I giorni del Rossini Opera Festival A Pesaro l'assedio è un successo Melomani plaudenti nel Palafestival Senza VIP E poi sotto altre notizie Come Mauro Lancia che adesso è libero Demolite tutte le accuse Mauro Lancia finito in un'inchiesta Sulla ricostruzione post-terreboto all'Aquila E poi chiusa l'indagine della procura A Marcord la birra non è artigianale Ritorna alla guerra della birra Questione di etichetta e anche di leggi che non c'erano Le altre pagine Allora andiamo a vedere quella Sempre dal resto del Carlino Di Fano e Valle del Cesano Spiagge sicure con la Croce Rossa Amarotta, l'associazione Bagnini Ha una valida spalla E sotto invece la pineta di Ponte Metauro Quella è a grosso rischio Un po' come il San Bartolo E anche come le Cesane È un luogo inaridito Dalla carenza di piogge In cui incoscienti purtroppo Accendono anche dei fuochi C'è la lettera di una residente Che solleva questo problema Prima che sia troppo tardi In effetti la pineta splendida di Ponte Metauro Va tenuta un pochettino sott'occhio Perlomeno bisogna fare un po' di prevenzione In più certamente Visto che il terreno è quello che è E purtroppo ancora c'è qualcuno Che fa i falò alla sera Oppure tanto per Si sono fatti avanti anche i cinesi Invece da Marina dei Cesari I progetti affidati allo studio Di Frausini Architetti Alberto Cazziol Parla del futuro del porto turistico di Fano Il progetto è allargato anche ad altre aree Non si possono fare i nomi Perché sono stati siglati Patti di riservatezza E poi sotto iniziata la bonifica Del distributore Al distributore dell'ENI Dove prima c'era appunto il distributore Vicino all'inviale Gramsci Vicino agli ex capannoni dei carri del Carnevale Così ci siamo capiti Allora andiamo adesso invece Sull'altra pagina del Carlino Ed è quella di Urbino Urbino che si sta preparando Alla festa del Duco La città si trasforma Per questa iniziativa L'organizzatrice Maria Francesca Crispini Dice Novità e spettacoli di alto livello E sotto Centro storico vietato Alle automobili Fino alle 24 di lunedì Per gli automobilisti Cambia tutto Ad Urbino Sospesi permessi per la ZTL Ecco dove parcheggeranno i residenti C'è tutto l'elenco delle vie Apriamo adesso il Corriere Adriatico Il Corriere Adriatico A tutta pagina Con una foto gigante Dedica l'apertura Alla notte più attesa dell'estate Come luccica il mare Questo è il titolo Migliaia di candele Accendono tutta la costa La notte più attesa dell'anno Batte la pioggia E porta in spiaggia 30.000 persone Poi c'è Rossini Sul red carpet Sfilano i VIP E ospiti illustri Qui vedete Matteo Ricci Con la moglie Con la signora Alla prima del ROF Allora L'altra pagina Tutte e due le pagine Le mettiamo insieme Vi facciamo vedere Eccola qua Proprio il giornale Con le due pagine aperte Dove si parla Dell'incantesimo Delle candele Che trasforma le nuvole In stelle Tra l'altro ieri Era anche difficile Vedere adesso Diciamola tutta Le stelle Anche perché c'era una luna Non proprio piena Ma insomma una luna Che illuminava il cielo Dunque era sempre Era difficile Poi metteteci anche L'inquinamento luminoso Proprio della città stessa Era pressoché impossibile Perlomeno A quell'ora Vedere Vedere le stelle La pioggia Caduta Intermittenza Però ha tenuto Con fiato sospeso Poi invece è arrivato Il via libera Siamo unici Dice Matteo Ricci Che elogia Il format pesarese Oltre 30.000 persone Lungo tutto Il litorale Adesso invece Apriamo la pagina Di Fano Del Corriere Adriatico Lo Chalet del Mar Lo Chalet Questo luogo Ti ritrovo Per giovani Per giovani Compromesso di Ferragosto La commissione Vigilanza E spettacoli Ha concesso La deroga Per 1240 clienti Ma solo fino All'evento Del 17 Colpo al cerchio Dunque E uno Alla botte Come si suol dire Sopra luogo Congiunto Poi è arrivata Questa autorizzazione Temporanea In vigore Da ieri Chiesti Due addette Al soccorso E anche Una recinzione L'assessore Commercio E patrimonio Di Fano Carla Cecchatelli Dice È stato concesso Il possibile Dunque Il divertimento Giovane È garantito Ma in sicurezza Questa è la cosa importante Il caso Dei 5 bagni Sono stati messi A disposizione Ma non è arrivato L'ok Dalle ferrovie Dello Stato Ex Agip Lavori spediti Giardino E Curva Sono stati migliorati Sinistra Unita Dice no Ad un nuovo parcheggio Il nodo Invece Via Di Borgo Cavour In Gir per Fan C'è questa bella iniziativa Che ogni anno Attira Centinaia Centinaia Di persone Pensate che Deve ancora Partire Eppure Sono stati venduti In prevendita A Fano Già Più di 1500 Biglietti È una passeggiata Degustativa C'è un tour Degustativo Lo dico per chi Ci ascolta da fuori regione Che ancora Non conosce bene Questa iniziativa La vedrete Se non riuscirete A parteciparvi Nei prossimi giorni Però questa passeggiata Degustativa Dicevo Tra le bellezze cittadine Conquista tanta gente E c'è Sul Corriere Adriatico Di questa Il programma Il programma completo Con tutte le tappe Questo percorso Che prevede Degustazioni In Piazza Costanzi Per esempio Si farà l'aperitivo Al Tertufo di Acqualagna In Via Garibaldi La Polenta di San Costanzo In Piazza Marconi Le lasagne La Marchigiana Poi nei giardini Leopardi Per esempio Il Crostolo di Urbagna Poi in Via Bartolagi Le degustazioni di vino Ormai ci sono Arrivo fino in fondo Al Pincio La Salsiccia Nostrana E poi nel Preside La Cattedrale La Pesca O la Pesca Di Monte Labate E poi in Piazza 20 Settembre Il Caffè alla Moretta Tanto per chiudere Ok? Quindi insomma Così avete capito E questo lo si farà Andando appunto Una sorta di tour A piedi Si farà Arrivando a tutti questi stand Si paga un biglietto all'inizio Ma già ne hanno venduti Più di 1500 Quindi se avete intenzione Di partecipare Fatelo In fretta È uno spot Ma non faccio Spot all'iniziativa Faccio spot alla città Soprattutto Perché poi mangiando Si gustano anche le vie Il centro storico Ed è quindi una promozione Alla città Dalla spiaggia Al gol più cliccato Sempre sulla pagina di Fano La leggerezza di essere cazzola Un'estate fa Faceva il bagnino Oggi è tornato protagonista Con una rete Che fa impazzire Il web Cazzola ha 35 anni Cazzola è questo Ragazzo qua Mentre Cornacchini È l'allenatore Famoso Giovanni Cornacchini Allora C'è tutta la storia Il racconto Di quello che ha fatto Di quello che non ha fatto Insomma Poi Rosciano Country Un'altra festa invece Che è partita Due giorni fa E che sta entrando Nel vivo Se vi piacciono le atmosfere Stile Far West Ecco Sappiate che a Rosciano Questo quartiere di Fano C'è questa festa Che si concluderà domenica Con tutte le Con tutte le atmosfere Diciamo legate Al country Al Far West E adesso ci sono anche Le reginette Da 7 a 28 anni E sono quelle premiate Qui c'è la fotografia Di gruppo Allora La cronaca Purtroppo Dalla Valle del Cesano Invece un furgone Che travolge una moto All'incrocio Sulla Pergolese Grave un centauro Un frontale Che è successo Ieri mattina Alle 10.30 Il traffico è andato in tilt Per ora Intervenuta anche Le diambulanze di Ancona Alle 10.30 Un motociclista Di 72 anni Che è residente a Fabriano Mentre procedeva Su una BMW Di media cilindrata In direzione monte Si è scontrato Con un furgone Ford Cassonato Che stava Compiendo una manovra A sinistra Per immettersi Nella Pergolese E questo È il risultato Andiamo Adesso Invece Sulle ultime Pagine Del Corriere Adriatico Intanto La notizia Da Pesaro e Provincia Che c'è uno stop Ai prelievi Su tutto il bacino Del Metauro Il divieto sarà esteso Anche all'area del Foglia La sospensione partirà Dal lunedì prossimo Naturalmente Tutto questo A causa della siccità Del fatto che non piove Dicevo la sospensione Partirà dal lunedì prossimo E proseguirà per tutto settembre Per contrastare La crisi idrica Un drone invece Un drone Sarà in volo Sul monte San Bartolo Per sondare Lo stato Della Falesia Oggi ci sarà Un nuovo sopralluogo Restrizioni su tutto il colle Per il rischio Per il rischio Degli incendi E sempre da Pesaro L'altra notizia È quella che riguarda Un giovane Che è stato salvato Dai carabinieri Mentre era in bilico Sui binari Della ferrovia Intorno alle 23 e 15 Successo di mercoledì sera Sono intervenuti I carabinieri Del radiomobile Che si sono trovati Davanti Una scena Appunto Molto Particolare I racconti Il racconto Di questa scena Sul quotidiano Di questa mattina Che troverete In edicola Ok Io direi di Fermarci qui Il nostro tempo A disposizione Per la rassegna stampa E la lettura del giornale È finito Vi auguro una buona giornata E vi do appuntamento Questa sera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Se avete segnalazioni Chiamateci Iscriveteci Al 338 4968 250 Buona giornata Grazie a tutti